Il 28 luglio 1883, alle ore 21 e 30 circa, Casamicciola fu colpita da un violento terremoto assieme ai comuni limitrofi di Forio e Laccamino. La scossa tellurica di tipo sussultore ondulatorio durò 13 secondi e fu valutata nell'epicentro del decimo grado della scala Mercalli e di magnitudino espressa secondo la scala Richer pare a 5,8. Le vittime furono 2313, di cui la maggior parte si registrarono a Casamicciola, ben 1784, 146 a Laccamino e 345 a Forio. Altre 10 vittime ci furono a Barano e 28 a Serrara Fontana. I feriti furono complessivamente 762. A Casamicciola, che all'epoca contava 4.300 abitanti, crollò la maggior parte delle abitazioni, il 79,9%, mentre le rimanenti furono danneggiate. Le prime notizie del disastro giunsero a Napoli verso la mezzanotte del giorno stesso, ma la macchina dei soccorsi, anche a causa delle difficoltà nelle comunicazioni, non funzionando più il telegrafo, si mosse con una certa lentezza, riscattata dall'eroismo dei singoli. Le scosse di assestamento furono parecchie. La più forte fu avvertita il 3 agosto. Il sisma era stato preceduto da un fenomeno di menore intensità del nono grado della scala Mercalli il 4 marzo 1881 e in quell'occasione le località maggiormente colpite furono Casamicciola e Laccamino. La scossa, durata 7 secondi, provocò 126 morti e un numero imprecisato di feriti. Tra le vittime del terremoto vi furono anche i genitori e la sorella del filosofo Benedetto Croce, il quale, allora 17enne, fu estratto vivo dalle macerie, ma ferito gravemente. Oggi, a 137 anni di distanza da quel catastrofico terremoto, l'isola d'Ischia continua a fare i conti con le vittime, gli sfollati ed i danni provocati dalla nuova e recente scossa tellurica, registratasi sempre a Casamicciola Alta il 21 agosto del 2017. Da allora il Maio, la Rita e la Sentinella continuano ad essere quartieri fantasma, in attesa di una ricostruzione di cui, al momento, purtroppo, non se ne intravede neppure la progettazione.